Cosa vuol dire che c'è uno che dorme in barattia? C'è uno. Oh, cazzo. Pierre. Due anni. Sei sparito, cazzo. Dove sei finito? Ma che roba è? Cimbo che tra poco va in discarica. Ma cosa pensi? Che puoi cucinare qualcosa che trovi nella spazzatura? Le cose ti vanno così male? Lo faccio per mia figlia. Anna. Sì. Cosa ti importa se torno o no a casa? Un problema in meno. Con i coltelli ci vuole precisione. Ti piace Pierre? Non lo conosco. Nemmeno io. Quindi hai cominciato il liceo? Sono al terzo anno. Io e te siamo molto simili, Granata. Siamo liberi. Sei un casinista, Pierre. Tutto quello che tocchi va in frantumi. Si può far vivere una ragazzina in una baracca? Dare da mangiare solo cose raccattate per strada? Pierre, guarda che sono io ad avere l'affido. La responsabilità legale di quella ragazza è mia. È rischio grosso. Perché domani mattina vi alzo all'alba. Quindi fai questo, salvi frutta e verdura. Devi venire con me? Ciao. 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 Ciao, ciao.